La regione più ricca d'Italia? La Lombardia. E a dirlo non siamo noi, ma i numeri. Secondo i dati pubblicati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, la nostra regione ha il reddito medio complessivo più elevato d'Italia, con 25.330 euro. In generale, anche nel 2020, rimane cospicua la distanza tra il reddito medio delle regioni centrosettentrionali e quello delle regioni meridionali, che risultano essere quelle meno ricche d'Italia. Circa 41,2 milioni di contribuenti hanno assolto l'obbligo dichiarativo direttamente attraverso la presentazione dei modelli di dichiarazione, redditi persone fisiche e 7.30, o indirettamente attraverso la dichiarazione dei sostituti d'imposta, si legge sul sito del MEF. La regione Lombardia è la regione più ricca d'Italia, lei questo lo percepisce? Sì. In cosa, per esempio? In generale, negli strutture, nei servizi, negli ospedali, no, no. Sì, lo percepisco effettivamente. Milano sì, la sento. Eh beh sì, sono un terrone, vengo dal sud, quindi vengo qui proprio perché non è un luogo comune, comunque la Lombardia è sicuramente un luogo che ti offre molto di più sia a livello lavorativo che qualità di vita, insomma, rispetto al sud. Qua d'Italia forse sì, si vede, si sa. Ma abbastanza sì, perché lavoro a Milano, quindi diciamo che sono circondata da persone che comunque rispecchiano abbastanza la città in cui vivono. E lei contribuisce a questa ricchezza? Sì, anche tanto. Sì, contribuisco, anche se è a fatica, però lo faccio. Beh, ci lavoro, porto la mia forza operaia, quindi presumo di sì, ecco. Nella media. Grazie. Grazie.